Ragazzi calmi, state calmi ragazzi, state calmi, state calmi, state calmi non mi fate domande che vi spiego tutto io nel video Vai, vi lo vedo, tutto io nel video Partiamo con il saluto Allora ragazzi, ben tenuto il mio canale quindi siamo tornati Siamo tornati finalmente dopo una settimana di influenza E adesso vabbè farà un po' di raffreddore Però tutto a posto E in questo video andremo a parlare dell'acquisto del Napoli In casa Napoli di Mattia Simone Berti Acquisto per 20 milioni Bologna non ce l'ha fatta a tenerselo in casa sua E allora appunto Il Napoli ho pagato appunto la pagina di scissoria 20 milioni E tu è riuscito a prendere il giocatore Tutte squadre sono più fatte sul giocatore Dal tormentone Il giocatore che è diventato ormai tormentone perché Quando è diventato forte Si è imbarazzato di tutta la serie A Si è imbarazzato di tutta la serie A E le squadre sono andate su di noi E la prima squadra che è andata su di noi La prima squadra che è andata su di noi è di prenderla e stare in Napoli Ragazzi Il Napoli che non può Poi perlopiù il Napoli Non fa mai acquisti Mai acquisti A niente Si mette mo' a comprare verdi Ragazzi lasciamo perdere Questo è infatti Non è possibile È possibile Il Napoli che ha comprato Però Ragazzi È l'acquisto Buono Buon acquisto Buon acquisto questo Buon acquisto questo di Verdi È un buon acquisto Simone Verdi Vabbè Comunque ragazzi Devo dire Questa è soltanto una mia reazione a caldo A caldo dopo l'acquisto di Verdi Questa è la mia reazione a caldo Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Scrivetevi al mio canale Se l'avete ancora fatto Ragazzi Quindi Non vi devo dire Mandatevi Consigliatevi ai video Che posso portare Poi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti Scusate se non ho cato Mi dovete nello sbarra Bella a tutti Grazie a tutti Scusate se non ho cato